sinergia 2019 l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi sono in compagnia di victor ranieri country manager italia di casavo ciao victor ciao gerardo un commento a caldo su questo pomeriggio un po denso molto molto denso ma molto molto interessante un evento davvero che fa fede al titolo dell'evento quindi ha creato tante tanti nuovi contatti stato un evento molto utile con gente del settore gente interessata è un pubblico ecco adatto ai temi trattati è vero sono rimasti seduti fino alla fine allora casavo casavo è l'instand buyer italiano che ha raccolto 100 milioni di euro quindi una cifra enorme ma è anche un'opportunità degli agenti immobiliari ce la vuoi raccontare in un minuto guardando sì assolutamente noi abbiamo un modello di partnership molto forte con le agenzie immobiliari che per noi sono un partner fondamentale quindi noi per l'agenzia immobiliari siamo un acquirente in prima battuta e dopodiché una volta acquisito l'immobile e valorizzato questo immobile grazie ai nostri investimenti ridiamo alla stessa agenzia il mandato in esclusiva per la rivendita quindi è una collaborazione end to end su tutta la transazione sia in fase di acquisto che in fase di rivendita molto interessante come contattano casavo allora casavo si può contattare tramite tramite facebook tramite linkedin tramite il nostro sito quindi www.casavo.it ci sono tutti i riferimenti del caso e c'è anche una pagina dedicata una landing page dedicata per gli agenti immobiliari fantastico grazie ti aspetto per edizione 2020 grazie a presto ciao grazie 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 grazie